Salve, mi dica, ha bisogno? Ah, cercava un regalo. Per chi è questo regalo? Ok. Ha visto qualcosa in vetrina? No. Allora, posso chiederle che cosa porta più spesso? Non so, un braccialetto, collana, anche un orologio, perché no? Ok, un braccialetto. D'accordo. Allora iniziamo, puoi farle vedere qualche braccialetto? E poi mi dice lei che cosa ne pensa? Ok. 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 Tottenimento. Ok. Ok. oro rosa. La collezione è molto varia, è molto vasta, quindi abbiamo giondoli di ogni tipo. Sì, è un braccialetto personalizzabile, quindi se alla persona a cui va il regalo piace, non so, un determinato animale, come può essere un ufo, un cane, un gatto, non ci sono problemi. Lo troviamo e lo attacchiamo. In questo caso abbiamo una coccinella portafortuna e un ferro di cavallo. Esatto, se conosci bene i suoi gusti non ci sono problemi, anzi farà un figurone. La chiusura è regolabile. Abbiamo infatti il solito gancino che troviamo alla fine di quasi tutti i braccialetti. e quindi può regolarlo a seconda della larghezza del polso. Inoltre arrivano in negozio nuovi ciondoli ogni due mesi circa. Quindi, non so, se vuole possiamo anche mandarle il catalogo tramite mail. Se vuole dare un'occhiata anche magari per futuri regali. D'accordo? Così ora vediamo per esempio! Grazie. Cosa ne pensa di questo braccioletto? Ok. Vuole vedere qualcosa di più elegante? Qualcosa di più fine? Ok. Va benissimo, non si preoccupi, sono qua per questo. Ok. Qualcosa di più luminoso? Benissimo. Così so cosa andare a scegliere con più precisione? Mi faccia pensare un attimo. Ok. Ok. Ci potrebbe essere un braccialettino fine, molto elegante, sempre personalizzabile. Ok? E con un tocco di luminosità. Io lo faccio vedere. D'accordo. Tra l'altro dovrebbe essere un braccialetto. Io lo faccio vedere. D'accordo. Tra l'altro dovrebbe essere un braccialetto. è questo. Adesso glielo spiego più nel dettaglio. In questo caso abbiamo un braccialetto molto più fine rispetto al primo che l'ho mostrato, sì. lateralmente abbiamo due catenelle che poi si uniscono mentre al centro c'è scritto il nome. Per questo le dicevo che è personalizzabile anche questo braccialetto. e abbiamo il punto luminoso che mi aveva chiesto prima. È bellissimo, non trova? Semplice ma bellissimo. Anche in questo caso la chiusura è regolabile. quindi non ci sono problemi di nessun tipo. E questo lo abbiamo solamente in argento. però guardi come splende anche solo con questo piccolo punto luce. per quanto riguarda la seconda proposta non l'ho vista molto convinta giusto? ok? Vuole qualcosa di più luminoso? Va bene, glielo faccio vedere subito. sì, che è questo? che dice? questo braccialetto è semplicemente fantastico. è formato da un punto luce centrale. super 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 brillante. super super brillante. e poi abbiamo palline intorno in argento. questo braccialetto. anche se è super luminoso. esatto, è super luminoso. cattura subito l'attenzione. in vetrina abbiamo anche la versione con altre due palline laterali brillanti come questa. quindi altri due punti luce. non so se ci ha fatto caso prima. se li ha viste. ok, nel caso le può piacere più questo. vedo che ne è entusiasta. l'unica pecca è che in questo caso la chiusura non è regolabile. è un po' diversa dagli altri braccialetti. come puoi vedere in questo caso abbiamo una barra lateralmente un bastoncino ecco che va chiuso dentro il cerchio. si, ce lo fa passare dentro. è chiuso. però ecco la misura è questa. non può essere stretto né allargato. quindi questo braccialetto la soddisfa. mi ha innamorata. mi fa super piacere. è la scelta finale. se posso mi permetto di farle vedere un ultimo braccialetto. e poi deciderò che ne dice. ok. questo certamente li lo metto da parte. l'ultimo braccialetto che vi voglio far vedere è sempre molto elegante. un po' più particolare. è un po' più particolare. è un po' più particolare. questo braccialetto. questo braccialetto. che è l'ultima proposta che vi ho fatto. è anch'esso stupendo. ed è composto da un punto luce centrale. e due più piccoli laterali. subito vicini a questo. e tutto intorno abbiamo delle perle. in questo caso le perle sono azzurre. ma abbiamo questo braccialetto in tutte le sfumature di colori che puoi immaginare. ed è per questo che è super venduto. si immagini che in giornata ne ho venduti circa cinque. se non di più. e in questo caso non c'è neanche il problema della chiusura. allora che ne pensa? è indecisa? non volevo metterla in difficoltà. allora dunque tra questo e questo ok sono bellissimi entrambi. vuole un attimo per pensarci? perfetto. si figuri. ha deciso? ok quale preferisce? quale preferisce? io lo faccio vedere un'ultima volta certo. si sono bellissimi entrambi. questo è elegantissimo nella sua semplicità. di certo. di certo non sfigura con questo al polso ecco. d'accordo. d'accordo sei convinta? no però c'è letto la mia collega che le fa il pacchetto regalo. eh super convinta vedo. benissimo. mi fa tanto piacere. ok allora può andare da quella parte a rivederci. a rivederci. a rivederci. a rivederci. minuto. mi fa tanto, mi fa tanto. si fe... il mattie. no scuma non ecco